Cosa fare dopo aver pubblicato? Sapevi che i 60 minuti dopo aver pubblicato un posto sono quelli più importanti? Il nostro obiettivo è quello di ricevere più interazioni possibili in quel lasso di tempo. Ed ecco le mie 3 tips. 1. Non abbandonare il social, ma anzi interagisci con le persone. 2. Condividi subito il post per generare traffico. 3. Rispondi subito ai commenti ricevuti nell'arco di quest'ora. Questi erano i miei 3 consigli. Mi raccomando, tips, like, salvelo per non perdertene altri e ci vediamo al prossimo.